Non lasciate i figli in balia delle ansie e delle tristezze che stanno affliggendo troppi ragazzi e troppi giovani. È uno dei passaggi della lettera scritta dal Vescovo di Trieste Enrico Trevisi in occasione della festa del papà, che perlomeno nel nostro paese coincide con quella di San Giuseppe. Auguro a tutti i papà, scrive il Vescovo, di saper stare accanto ai figli e riuscire ad accompagnarli dentro le intricate ed affascinanti strade della vita. Siate presenti, aggiunge Monsignor Trevisi, come testimoni affidabili. Insieme si possono affrontare le prove e le incognite del futuro, tirar fuori le proprie capacità, vivere senza estenuanti ed avvilenti confronti. Un papà, ragiona quindi il presule, deve dare ai propri figli il gusto positivo della parola stessa, papà, padre, aiutare i figli ad avere un'aspettativa positiva nei confronti di Dio, che ha scelto di farsi chiamare padre. Datevi il tempo per costruire relazioni importanti che rafforzino la fiducia nel senso della vita, il coraggio nel prendersi le responsabilità, la comprensione per le fatiche, prosegue la lettera. Abbiate, continua il Vescovo, il coraggio della libertà vera, non quella che si lascia bindolare dalle pressioni del mercato consumista, delle mode furstranti, delle comodità paganti e poi fuorvianti. Possiate essere visti come i depositari di un'esperienza a cui attingere. Di fronte a questa responsabilità, conclude Monsignor Trevisi, non sentitevi soli. Dio, che è padre, vi accompagna, appoggiatevi a lui.